La scuola è la scuola, la scuola è la scuola Il piang dei play-offs lo è la prima dalle La scuola è la scuola Le scuola per la scuola Per la scuola è la scuola Per la scuola di Golo La scuola è la scuola Buon round Ca dimossi sottile anche la scuola il primo gioco il secondo gioco 4-0 tutti questi scrooci e il secondo gioco il secondo gioco si è iniziato molto bene il secondo gioco il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco calcio il come questo il bene è bene 5-0-4 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 6-0-4 5-0-4-7 5-0-4 5-0-4 6-0-4 3 3 3 3 5 5 6 Grazie 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 Per een pan I apologize Grazie Sì, è vero! Sì, sì, sì. 15-8, Gliomis 7 Il primo paese, il playoff development 2 Gianna con il tuo potico Sani è il primo paese E' 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 il primo paese Leader Lugger Penso E' il suo paese Lugger Lugger Pedic bonne Son il dopp Mayor Sånt Espera Terus E' il primo paese I' il primo paese Il Roberta Il Fuentes E' il Guamad fetch I'm going in I'm going in I'm going in One of the other E' lives Capolas, Capacopoulos, Meremetis, Dumas Sofianò e Poulis Pettava per Scrooge Parcelona Tiggo Pettava per Scrooge Pettava per Scrooge Pettava per Scrooge ... Apofevito, ha fatto Ha fatto lo scrim Chaggeviglioni Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 5-6-15 DIAFORA 12-11 SEBITZI FARARIZMÓ PONTO Sì SINÉGIO VASILI SIA KANI TO FAO SON DUMAS SON STENIS VOLES SON STENIS VOLES 26-15 Grazie a tutti! 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 non è una bianca di più altamente a lo scassi, si deve uno bianca la bianca di fidero vediamo 1-10 per un po' 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 per vedere che ciò che vediamo da ora Scruzzi un'ξαιρετικό καλά από την προσπάθεια από τον Μελμέτη έκανε το 36-23 Μπράβο του πολύ όμορφη η φάση λαλιώτης για να απαντήσει έτσι όλη γραμμή των 16-75 κοιτάξτε παλεύουν όλοι τώρα το ντυπός αυτός είναι η μάκεδα Να κάνουμε οι ζαστροχίσεις Μαχάμισα στοχίσει Η μπάλα γέγε και του λαλιώτη δεν ακούμπησε Στεφάνη δεν ανανάειοτητε ο χρούνους Οδηδάκης τρα καταυτερόλετα e già piacere la scuola il bada su di sidero la scuola il suo scuola 36-23 e quindi tutto l'aico il secondo il suo scuola 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 Sì, si tratta di un gioco Il ponte di fare il ponte Il ponte di sbagliato Di sbagliare il ponte La differenza tra 13 ponte Il ponte di fare il ponte Il ponte di sbagliato Il ponte di sbagliato Il ponte di ponte Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti